Una ragnatela cosmica che si estende per miliardi di anni luce, fatta di galassie, gas, polveri, ma anche di numerose zone apparentemente sgombre di materia visibile, dove invece potrebbe annidarsi quella oscura. Ecco il primo spettacolare colpo d'occhio dell'universo realizzato nell'ambito del progetto Vipers, sviluppato da un team internazionale coordinato da ricercatori dell'INAF. Vipers utilizza lo spettrografo Vimos, installato al Very Large Telescope dell'ESO, per ricostruire la distribuzione spaziale delle galassie, quando l'universo aveva circa metà dell'età attuale, ovvero attorno a 7 miliardi di anni. Il punto di forza del progetto è nella combinazione senza precedenti delle dimensioni del volume esplorato e del dettaglio con cui la struttura a grande scala viene ricostruita. L'ambizioso obiettivo è quello di misurare le distanze di circa 100.000 galassie in un volume di quasi 2 miliardi di anni luce cubici, per ricostruirne la loro distribuzione tridimensionale. I risultati, molto attesi, cominciano ad arrivare. Sono stati infatti presentati una serie di articoli che si basano sulle prime 55.000 galassie finora osservate. Il quadro che si sta rivelando ai nostri occhi, come possiamo vedere in queste immagini, è quello di un universo che già svariati miliardi di anni fa era organizzato in grandi strutture filamentose, che connettono gli ammassi di galassie e circondano ampie zone vuote. La struttura è analoga a quella osservata nell'universo più vicino a noi, ma rappresenta un fotogramma intermedio del film cosmico scattato circa 7 miliardi di anni fa e per di più dettagliatissimo e molto esteso. Un fondamentale passo in avanti che ci permette di avere a disposizione, per la prima volta, una visione d'insieme dell'universo a queste epoche. Il team di Vipers è stato in grado di produrre già con il campione attuale dei risultati che migliorano significativamente la nostra conoscenza, sia delle proprietà globali della popolazione di galassie, sia della loro distribuzione spaziale a grande scala, confermando la necessità di inserire una forma di energia oscura nell'equazione dell'evoluzione dell'universo, per spiegarne la sua espansione accelerata. Un lavoro lungo e complesso che impegnerà per altri tre anni il team coordinato da Luigi Guzzo, dell'Osservatorio Astronomico di Brera dell'INAF, e a cui partecipano vari ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e di Università Italiane. Presso l'INAF IASF di Milano, poi, vengono raccolti e analizzati tutti i dati osservativi, per renderli disponibili a tutta la comunità astronomica internazionale e massimizzare così i futuri risultati.